La partita di Giovedì Abbiamo fatto un piccolo passo in avanti perché intanto si continua a perdere però sapevamo che potevamo vincere anche questa partita e volevamo dare una buona risposta dopo una partita brutta così e abbiamo un po' di spettacolo dato almeno ma certo che non siamo soddisfatti perché era una partita che magari in teoria non si poteva vincere però abbiamo dimostrato che se giochiamo così come abbiamo con questo atteggiamento o con questa grinta possiamo batterci anche con le squadre più forti. Per quanto ti riguarda la prima gara da titolare com'è andata? Un po' di alti vassi, un paio di set un po' meglio, un paio di set un po' peggio però insomma sono soddisfatto, volevo vincere però la prossima magari la vinciamo. Adesso la trasferta a Molfetta poi dopo dovete pensare ai playoff di Challenge, la società ha detto che ci tiene parecchio a questo avvenimento. Ci teniamo anche noi perché ho un'altra possibilità di far vedere che non siamo, questo ultimo posto in classifica non è nostro, abbiamo fatto una bella partita oggi e se continuiamo in questa strada qui penso veramente che possiamo far bene, dobbiamo crederci anche se non abbiamo vinto questa dobbiamo crederci che i risultati arriveranno. Grazie a tutti!